finisce così anche questo sesto cammino nel guilcher barigado e diciamo che finisce un doppio cammino il primo cammino che è dato ad asuni ci ha portato qua sino alla chiesa hai trovato ci vediamo grazie a te ecco qua piccolo rinfresco a conclusione di questa di questa giornata ecco ma qui c'è un mega invito questa è una cosa solenne mamma mia mamma mia mamma mia è sfatato guardate guardate sono l'orecce batte grazie fate passare un attimino allora chi ci racconta questi dolci che cosa sono posso passare allora allora ghilarza ecco ma qui avete fatto delle cose in grande queste torte le ciambelline gli anicini wow le crostate e poi abbiamo qua che cosa le questo questo mi sembra che sia ai ma che cosa gli asparagi mi sembra agli asparagi guardate mi sembra di essere a non ricci e siamo a di lazio guardate fantastico ma è incredibile guardate assaggiamo un pezzettino di pane con questa cosa c'è anche il cagnolino che vorrebbe qualche cosa guarda allora guarda allora uno di questi giorni poi c'è la cazzo della scelta io ben di Dio grazie a Dio sono in birichitto ma Dio guarda sto solo guardando e quindi lo stanno versando in piazza guarda io non mi ero sono in piazza guarda io non mi sono in piazza guarda